Il professor Tria fa bene perché dice le cose che diceva Padoan, quanto sono congruenti questi due ministri con il resto del governo? No, scusi, no, 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 Padoan non dice quello che dice il professor Tria, il professor Tria ha una carriera, ha detto delle cose al convegno testè svoltosi a Tor Vergata con il professor Paganetto che è assolutamente diverso da quello che diceva il dottor Padoan, quindi assolutamente sono due posizioni teoriche e politiche diverse. Non tutti siamo stati a quel convegno. Sarebbe stato bene se Sky ha detto che così come stiamo andando avanti con una rigidità di sistema cambi fissi troppo forti, le divergenze tra paesi europei non possono far altro che accentuarci e se continua la politica economica tedesca di fare una politica solo expert led senza investire sul plus commerciale che sfora qualsiasi, come sapete tutti, come sanno tutti quelle persone così intelligenti che sono lì riunite attorno a lei, questa cosa non può essere sostenibile e quindi bisogna, quando avremo di nuovo un primo possibilità istituzionale all'interno delle regole europee, rinegoziare i trattati a cominciare dal fiscal compact. Quindi c'è una carriera scientifica che dimostra queste cose. Quindi proprio Padoan, guardi, devo dire, poi i due personaggi dal punto di vista scientifico sono incomparabili, ringraziando Dio. Allora, lasciamo da parte un attimo l'Accademia. Basta leggere sfide. Semineri, un attimo del monaco. E' un fatto di...